salve a tutti e bentornati qui nel canale sai che web tv in una nuova puntata di sai che naturalmente prima di iniziare e salutiamo tutti quanti iniziamo da donato valeria e io pino che naturalmente vi salutiamo augurandovi un buon tutto sempre pino sai che cos'è sai che è un programma di video servizi informativi con interviste a professionisti o cultori obisti di utilità e informazione popolare come ad esempio usi e costume arte cultura storie e tradizioni del nostro territorio e tante tante curiosità in generale quindi oggi abbiamo una bellissima curiosità da farvi vedere o per lo meno da farvi rivedere perché siamo andati nel nostro archivio l'abbiamo ripescata e riproposta perché è proprio bellissima e da rivedere è un sai che botanico molti di voi avranno ricevuto in regalo un bellissimo bonsai o una bellissima orchidea ma non tutti sanno come come trattarle curarle infatti il posto migliore dove tenerle e quando innaffiarle lo spiega in questo video la fioraia vita sportelli di castellana grotte però prima di vederci il video iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto è la campanellino mi raccomando per vedere i nuovi video per essere i primi a vedere i nuovi video ma pure i secondi dai va bene allora detto questo ciao a tutti e vediamoci il video bene oggi ci troviamo da ikebana giardino in fiore di vita sportelli dove sai che come gestire come tenere in casa un bonsai quindi come tenerlo in vita e nel migliore dei modi quindi ci puoi dire come allora il bonsai quando arriva nelle nostre case è bello verde così dopo un po di tempo cominciano a cadere le foglie allora il bonsai vuole stare o dietro dietro in vetri o fuori in pieno sole deve stare sempre umido come questo una volta che il bonsai comincia a fare le punte così alto si può dare la forma che noi vogliamo puntare dare una forma a palla darlo come uno crede dopo un po di tempo che arriva nel nostro caso il bonsai purtroppo diventa così quando diventa così è un problema o è stata poca l'acqua o è stata poca la luce due cose sono insomma questo è allora quando diventa così basta metterlo in pieno sole se d'estate innaffiare tutti i giorni se a inverno alternare una volta a settimana due e lasciarlo e vediamo che poi diventerà di nuovo così bello e infoltito pienamente speriamo che questi bei suggerimenti che ci ha dato vita sono proprio dei consigli che cercavate come curare trattare l'orchidea in casa allora l'orchidea in casa bisogna tenerla alla luce luce diretta anche col sole non succede niente innaffiare una volta a settimana un bicchiere d'acqua direttamente nel terreno due volte al mese concimare con concimo liquido o solido quello che sia quando le radici diventano secche basta spuntarle così toglierle e lasciare pulito quando finisce il fiore lo stelo non si taglia a meno che comincia a seccare come questo e si taglia dalla punta così se c'è il fiore se non c'è fiore tagliare sopra i nodi di qua qui sopra i nodi tagliare e lasciare e tenere sempre dove l'abbiamo sempre tenuta innaffiare correttamente una volta a settimana e basta una volta che secca o si vuole trapiantare basta tirare un po di forza se noi vogliamo cambiare il vaso pulire togliere tutte le radici secche come sono sotto così puntare bene per invasare mettere il terreno sotto e li invasiamo in un vaso più grande o quello che sia così mettere terreno adatto per gli orchidee ovviamente e basta è molto semplice è facile da curare ha bisogno solo di luce e acqua e tanto amore dove uno può trovare un terriccio così è facile da trovare o presso noi fiorai oppure da andare dai vivai loro ce l'hanno è adatto per dire concime scusate terreno per orchidee ed è molto facile da trovare speriamo che il consiglio i consigli di vita sportelli vi sono stati utili e sono stati di vostro gradimento quindi sai che può interessare coinvolgere anche te